Sono iniziati questa mattina anche presso il carcere San Donato di Pescara dove ci troviamo in questo momento gli interrogatori degli arrestati nell'ambito dell'operazione dei carabinieri del ROS che ieri hanno sgominato una vasta organizzazione su scala nazionale che aveva messo su un gruppo di persone con finalità terroristiche e comunque di creazione di un gruppo di estrema destra che aveva in progetto anche l'obiettivo di compiere attentati verso obiettivi sensibili anche della nostra regione e anche di Pescara. Al vertice di questa organizzazione avanguardia ordinovista che si rifaceva proprio a ordine nuovo, gli inquirenti collocano un 48enne di Montesilvano che tra gli arrestati le indagini dei carabinieri del ROS proseguono così come gli interrogatori che continueranno anche nelle prossime ore non solo nel carcere San Donato di Pescara ma anche in altri penitenziari italiani. Le indagini proseguono nelle prossime ore, ci potrebbero essere anche novità. Per il momento gli inquirenti non si sbottonano ma è chiaro che c'è soddisfazione fra le forze dell'ordine e anche la procura dell'Aquila che ha condotto l'inchiesta per aver evitato un qualcosa di pericoloso che poteva accadere proprio nella nostra regione.